Ciao a tutti, come promesso sono qui con aggiornamenti sul nostro tour. Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e ahimè il tour verrà cancellato. Il tour che doveva avere luogo negli stadi italiani quest'estate sarà cancellato. Per chi ha acquistato i biglietti, le opzioni sono due, ovviamente il rimborso tramite i punti vendita che avete scelto oppure potete trattenere il vostro biglietto e tornare ad utilizzarlo per il mio prossimo tour che sarà nell'estate 2023. Ovviamente avremmo sperato di meglio, ovviamente avrei voluto festeggiare con voi i miei vent'anni di carriera. Il mondo va dove va e dobbiamo rispettarlo. Detto questo ci tengo a dire che d'ora in poi i miei sforzi andranno tutti a scena unita ai lavoratori della musica che rimarranno per il secondo anno consecutivo senza lavoro. E per quanto ci riguarda vi ringrazio per la pazienza e vi voglio veramente bene. Grazie. Grazie. Grazie.